Nella luce siamo riuniti. Nella sua grazia, nostro fratello sarà renato. Other, giuri di tenere fede ai principi della luce sacra? Lo giuro. Quali sono questi principi? Le tre virtù. Rispetto, tenacia e poi... E poi? Compassione. Vedere oltre ciò che ci rende diversi e comprendere ciò che ci rende simili. Aiutare coloro che soffrono, anche se... Oh, Arthas. Aspetta. Cos'è quello? Lì, nell'angolo. L'intera città deve essere purificata. Come... Come puoi anche solo pensarlo? I suoi ricordi si stanno deformando. Dobbiamo aiutarlo. No, Cleia. Deve farcela da solo. Come tuo futuro re, io ti ordino di epurare questa città. È troppo lontano. Non sei ancora il mio re, ragazzo. E non ti ubbidirei neppure se lo fossi. Allora devo considerarlo un atto di tradimento. Tradimento? Hai perduto il senno, Arthas? Non ci ubbidirei neppure se lo fossi. Non ci ubbidirei neppure se lo fossi. Allora Раз! Beh! Non ci ubbidirei neppure, anche se lo fossi. E non ci ubbidirei neppure neppure. Ogni कontrò. Abbassimo coloro. Per esempio, perchè, non mi raccomando. Grazie a tutti. Questi ricordi... non sono tutti uguali. Giuri di camminare nella luce e diffonderne la saggezza? Il dolore e il rimpianto ti tormentano ancora, così come Arthas. Giuri di sconfiggere il male e proteggere i deboli e gli innocenti? Io... lo giuro. Ergi Tutor, come paladino e difensore di Lord Aron. Primo dell'ordine della mano d'argento.